Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Don Bosco oggi ci chiederebbe, cosa state facendo per garantire un futuro dignitoso ai nostri giovani? Chiudiamo gli occhi davanti all'inquinamento atmosferico, allo scioglimento dei ghiacciari, alle calamità naturali, alle pandemie. Giriamo lo sguardo alle disuguaglianze, alla fame, lo spreco, la sofferenza. Non ci sconvolgono più i conflitti e le migrazioni. Il mondo ci sta sfidando, non possiamo più fare finta di nulla. Come famiglia salesiana siamo tutti chiamati a confrontarci con le sfide contemporanee. Papa Francesco ci ricorda che la crisi sociale e la crisi ambientale sono due facce della stessa medaglia. E non possiamo più tirarci indietro, ma agire insieme remando nella stessa direzione. Abbiamo il compito di educare al rispetto della vita in tutte le sue forme. Nelle nostre scuole e università, nei nostri oratori, nelle parrocchie, incontriamo migliaia di giovani, li aiutiamo a crescere e li accompagniamo nel percorso della vita. A loro dobbiamo trasmettere valori positivi, belli e consegnare un mondo più giusto, equo e vivibile. L'ecologia integrale di Papa Francesco, così ben espressa nella Laudato Si, è un modo di leggere il mondo nella sua integralità, di scoprire le sue connessioni, di sentirsi parte di un tutto. Ogni creatura è un essere perfetto e il pianeta in cui viviamo, la nostra casa comune, è stato creato come un insieme armonico di esseri che convivono senza poter fare a meno l'uno dell'altro. Teniamo vivo questo filo che ci unisce e ci lega a Dio. Il Vaticano, mediante il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, ci offre uno strumento pratico e concreto, la piattaforma di iniziative Laudato Si. Sulla piattaforma troverai un percorso di sette obiettivi dedicato a famiglie, a parrocchie, diocesi, imprese, a scuole e università, a ospedali, organizzazioni e comunità religiose, con suggerimenti pratici per vivere in maniera più sostenibile. Per noi, figlie di Maria Ausiliatrice, vivere il carisma è anche contribuire ad una educazione integrale. Capire e vivere l'ecologia integrale è una grande responsabilità, è cittadinanza, non solo per oggi ma anche per il futuro. I bambini, gli adolescenti, i giovani spesso ci precedono anche in questa sensibilità e nelle nostre strutture fisiche vorremmo anche adottare criteri di sostenibilità. Anche i salesiani cooperatori di tutto il mondo sono chiamati a unirsi in questo percorso di salvaguardia del nostro pianeta. Solo riconoscendo la bellezza del creato e delle creature possiamo vivere in pace con noi stessi e con il prossimo. Le scuole, gli oratori, i centri giovanili sono luoghi privilegiati per la cura delle persone e dell'ambiente. Gli ex allievi e le ex allieve lo sanno molto bene e per questo supporteranno tutte le azioni dirette a migliorare gli ambienti umani e fisici in cui sono accolti i giovani. Vivendo la spiritualità del quotidiano, come membri dell'Associazione di Maria Ausiliatrice ci impegniamo a riscoprire e rivitalizzare il legame con Dio Padre e con tutte le sue creature e a promuovere l'accoglienza e la solidarietà verso i più deboli e i più poveri e invitiamo anche a voi a fare lo stesso. L'ecologia integrale ci insegna che ognuno di noi nel luogo in cui vive può mettere in campo le sue doti, le sue capacità e fare la sua parte. Tutti siamo chiamati a riscoprire le bellezze del mondo e a renderlo ancora più bello. Come ci insegna Don Bosco, dobbiamo fiorire lì dove Dio ci ha piantato. Oggi più che mai dobbiamo darci da fare per il nostro pianeta senza troppi bla bla bla. Non ne abbiamo un altro di riserva. Noi giovani ne sentiamo la responsabilità come custodi della terra, di ogni creatura. Iscriviamoci alla piattaforma Laudato Si. Iscriviti anche tu alla piattaforma Laudato Si. Cammina con noi verso un mondo migliore. Iscriviamoci. Garantiamo ai nostri giovani un futuro dignitoso. Iscriviti al nostro canale.